Nessuna traccia di Black. Negativo, signore. Si sta nascondendo con un blocco aurei. Maledetto! E un'esplicita violazione degli accordi di Gohan. Nessun Gohan ha il permesso di intromettersi negli affari degli altri universi. Senza le giuste credenziali. Signore, abbiamo rilevato i movimenti del Gohan dell'universo 7TD. Quello è, quello è, signore. Oh, Cristo. E sentiamo dove si dirige. In Messico, signore. Cioè dove si trova il mitico Lisir e il Blanco. È una tequila, signore. So quello che dico. Tenetelo d'occhio. Signor Si. Siamo nel posto giusto. Stando al thread che ho letto su 4chan, dovremmo esserci. E beh, è un sito molto utile. Ehi, testa di minchia. Stiamo cercando una cazzo di tequila. Sai dove possiamo trovarla? Ce l'ho qui, coglione. Beh, tu l'hai chiamato testa di minchia. Scusa, ti secca se ne prendiamo un po'. Ti aspetti che ve la dia dopo che quel piccolo emo mi ha dato della testa di minchia? No, bello. Voi adesso vi sciacquate dalle palle. E ora che cosa facciamo? Ma hai sentito il detto, o la va o la spacca? Ma tu non capisci un cazzo. O ce la dà o lo spacchiamo. Ha, ho capito. Vuoi che ti rompa il culo? Te l'ha mai detto nessuno che sembri la versione Furry di Goku? Primo. Secondo, ti riferisci a quell'inutile balordo? Ha, no. Mi chiamo Goku Tamarro, vengo dall'universo 2GS e non mi paragonate mai più a quel contà di noto. Ricevuto. Ora che l'hai tirato fuori, che ne dici se lo tiro fuori anch'io? Senza non pisarsi! Vuoi che rompa la tradizione e ti dia una mano, oppure... Eh, dai, seguiamo la tradizione. Grazie a tutti. Mi serve quella tequila, Tamarro. Io devo... Che cosa? Diventare più forte? Proteggere la tua famiglia? Proteggere i tuoi amici? Kiko, ho già sentito tutte le cagate da shonen che si possano immaginare. Non saranno le tue a convincermi. Io devo... Io devo... Io devo continuare a sfruttare quella troia di mia madre. Scusa? Black Gohan vuole rimettere mia madre sulla retta via. Se ci riuscirà, non potrò più far soldi sfruttando la sua troiaggine. No, vabbè, ma tu sei il più dritto di tutti. E perché? Riflettici un po'. Tutti i cattivi che hanno lottato con tuo padre possono dare sfogo a rabbia e frustrazione cornificandolo. E tu puoi approfittarne facendoli pagare. Cazzo, potrei invitare pure i miei cattivi così ti faccio fare ancora più soldi. E in tutto ciò il bello è che ci guadagniamo tutti. Tutti tranne Goku. E chi se ne frega. Ma questa mi sembra un'idea fantastica. Dai, andiamo. Adesso birretta e parliamo un po' d'affari. Posso... Posso chiamarti papà? Solo se io posso chiamarti figliolo. Posso chiamarti papà? Ok, ciao.